Solo un candidato su quattro ce la farà. I test di medicina sono una lotteria che pochi potranno aggiudicarsi. In campagna circa 8.000 i candidati che hanno partecipato alle selezioni presso le sedi universitarie di Napoli, Caserta e Salerno. Tra le domande proposte il diritto feudale, Darwin, ma anche il documento di programmazione economica e finanziaria. Aspre polemiche da parte di ragazze e ragazzi che contestano il numero chiuso e chiedono una riforma del processo di selezione, ma come spiega il coordinatore regionale dell'ordine dei medici della campagna, Giovanni D'Angelo, il libero di tutti sarebbe un errore. Se lei pensa di risolvere il problema aumentando i posti oggi, mi dica e penso che la logica vuole che non è il modo esatto, perché se lei crea più posti ora poi avrà più laureati dopo che magari non serviranno più in rapporto alla realtà che lei dovrà affrontare. Quindi è troppo semplice pensare al moltiplicatore di posti per risolvere i problemi. La verità è che non siamo stati in grado di affrontare il problema. Questa è la sacrosanta verità. Per i camici bianchi il peccato originale è nella mancata programmazione che porta alle storture dell'attuale sistema. Posto 68 praticamente non c'è stata dopo il 68 fino a circa il 75-76, anche qualcosina in più. Era una programmazione totalmente sbagliata e si è rivelata sbagliata negli anni successivi. Cioè noi abbiamo pagato un prezzo che non appartiene a quest'epoca, ma appartiene a un'epoca precedente.